Ehi Ale, ma quant'è che ci mettiamo ancora? Eh, un po', Google Maps dice che c'è traffico. Ah, e come fa Google Maps a dirti che c'è traffico, scusami? È tutta una serie di algoritmi, però io chiederei ad Andrea. È vero, potremmo fare un video sul traffico di Google. Benvenuti a un nuovo figo, non lo sapevo! La stragrande maggioranza delle persone usa Google Maps. Quando tutti insieme usiamo Google Maps per muoverci, i dati aggregati... Aspè, aspè, Andre, ma che sono questi dati aggregati? Eh, i dati aggregati sulla posizione sono tutte quelle informazioni che provengono dai telefoni che si trovano contemporaneamente in una certa zona e che quindi, una volta raccolti, non i telefoni ma i dati, vengono impiegati per determinare le condizioni del traffico sulle strade di tutto il mondo. Ok, quindi lui sa che per esempio qui è rosso perché in questo momento ci sono tanti telefoni connessi lì in quel momento? Sì, esatto. I dati che arrivano da quei telefoni contengono informazioni relative alla posizione, alla velocità, agli spostamenti e alla velocità di questi spostamenti. Se c'è traffico, le auto sono ferme e quindi anche i telefoni sono fermi, tutti vicini, e quindi gli algoritmi di Google capiscono che lì c'è traffico e quindi è rosso. Quindi le zone evidenziate in blu, arancione e rosso sono il frutto delle informazioni prodotte proprio dagli utenti che stanno viaggiando in quel momento. Blu scorrevole, arancione rallentamenti, rosso intasamento. In realtà però Google Maps prende in considerazione non solo i dati reali, quelli in real time, ma anche i modelli cosiddetti storici, cioè quelli già esistenti per quello specifico itinerario. Quindi non sono solo dati in real time. Esatto, ti faccio un esempio. Avendo una marea di dati a disposizione, lui può sapere che su via Mazzini a Bologna, per esempio, le macchine scorrono a una velocità media di 35 km orari intorno alle 23, mentre mantengono una velocità media di 25 km orari intorno alle 9 di mattina. Queste informazioni unite ai dati forniti dalle posizioni degli utenti, quindi quelli in real time, vengono impiegate da Google Maps per generare predizioni sugli itinerari di viaggio. Figo, non lo sapevo. Quindi vuol dire che si tratta di un lavoro di squadra tra analisi di dati storici e contemporanei. Ma come fai il figo? Però in realtà c'è altro. Google cerca di perfezionare l'accuratezza delle predizioni del traffico e lo fa anche attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale. Devi sapere che in alcune città come Berlino, Sydney, Tokyo oppure Washington è già stato implementato un sistema di apprendimento automatico chiamato Graph Neural Networks che è in grado di sfruttare quei dati strutturati a graph, quindi strutture flessibili e dinamiche, e che permette a Google Maps di prevedere se nel tragitto che ci stiamo apprestando a percorrere ci saranno dei rallentamenti che non ci sono ancora stati. Incredibile, no? Piccola curiosità, attualmente in Italia le predizioni del tempo di arrivo stimato, pensate, hanno una precisione del 97%. Pazzesco! E invece Street View come funziona? Street View è la funzionalità di Google Maps che ci permette di visualizzare le immagini panoramiche dei luoghi che abbiamo voglia di visitare virtualmente. Raccogliere le immagini che ci permettono di farlo, di spostare l'iconico omino giallo in una stradina turistica di Sevilla o tra le casette colorate di Arsuk in Gronillandia, è un lavoro molto impegnativo. Una cosa incredibile che può richiedere giorni o addirittura settimane e che viene svolto principalmente grazie alla celebre flotta di Google Car, quelle auto di Google che vi sarà certamente capitato di incontrare anche nella vostra città. Ognuna di questi automobili è equipaggiata con nove videocamere che scattano continuamente fotografie ad alta risoluzione e che catturano quindi ogni angolo possibile dei paesi che attraversano. Non solo, le camere sono realizzate in modo da resistere alle più disparate temperature ed escursioni termiche a livello mondiale, perché ovviamente andando in tutte le parti del mondo devono essere molto solide. Però ho visto che ci sono foto anche di zone senza strade, nel bel mezzo del nulla. Com'è che hanno fatto? Si indossa un cosiddetto trekker, uno zaino speciale equipaggiato con un dispositivo da 15 obiettivi che permette di collezionare immagini laddove non sarebbe praticamente mai possibile arrivare con un'auto. Pensa che per mappare i principali sentieri del Grand Canyon National Park in Arizona ci sono voluti ben tre giorni 10 persone e 5 trekker. In 12 anni di attività le Google Car e i trekker hanno raccolto oltre... Assurdo. 170 miliardi di immagini e mappato oltre 220 paesi e territori. E che differenza c'è fra Google Maps e Google Earth? Google Earth è un software che utilizza immagini aeree e satellitari e informazioni sulla topografia e batimetria, cioè la morfologia dei continenti e del fondale marino. Quindi Google Earth ci fornisce una visualizzazione tridimensionale e direi completa del pianeta. Poi non so se ti è mai capitato, però in Google Earth in realtà puoi importare anche dei dati, i cosiddetti dati GIS. Si tratta di informazioni associate a dei punti della Terra, quindi puoi importare delle cose. Gab, qualche tempo fa abbiamo fatto dei video sulle perforazioni, sui pozzi in Italia, ti ricordi? Eh sì, l'ho montato io. Eh esattamente, che abbiamo importato il KMZ, ti ricordi? Certo. Questi file si chiamano o KML o KMZ, li trovate in giro per il web, si trova veramente di tutto. Voi lo scaricate e lo importate in Google Earth, quindi se avete Google Earth installato sul vostro PC, lo aprite, andate in file, importa e importi il KML o il KMZ e lo visualizzi. Easy. In questo modo possiamo far vedere cose, aggiungere cose sul globo. Altro esempio, che lo facciamo vedere spesso nei nostri video, le file italiane. Eccole, qua che abbiamo fatto. Abbiamo scaricato le file dal sito DIS dell'INGV e le abbiamo caricate in Google Earth. Insomma, Google Earth, secondo me, è una cosa incredibile, è uno strumento utilissimo e che negli ultimi 15 anni è stato utilizzato da miliardi di persone. Ma c'è di più. A partire dal 2017 è possibile osservare come è cambiato il nostro pianeta nel tempo. Su Google Earth c'è la funzionalità Timelapse. Infatti sono state utilizzate 24 milioni di immagini satellitari realizzate negli ultimi 37 anni. Questo per far cosa? Per costruire una visualizzazione virtuale del mondo e dei suoi cambiamenti nel corso del tempo. Una funzione sicuramente anche molto importante per capire come evolvono, ma soprattutto per vedere come evolvono, gli ambienti naturali e urbani, che a volte ci sembrano immobili e immutati. Gabba, invece tu lo sai che esiste anche Google Earth Studio? Ma è certo, lo uso sempre per i video, no? Eh bravo, lo so che lo usi per già pop. Con Google Earth Studio è possibile realizzare vere e proprie animazioni a partire dal mondo Google Earth. Molto semplicemente si tratta di uno strumento utile per creare immagini e video in alta risoluzione e per utilizzare tutte le informazioni geospaziali che Google Earth ha a disposizione. Puoi scegliere tu il movimento della camera, puoi fare dronate, puoi scegliere addirittura gli orari, quindi puoi scegliere se girare, tra virgolette, all'alba o al tramonto, cioè roba fighissima. Questo qui è un video dimostrativo che abbiamo realizzato su Gopop qualche tempo fa. Guardate che figata. Tutto questo è stato girato in Google Earth Studio. Per vostre informazioni, se volete utilizzarlo, bisogna fare richiesta a Google direttamente e entro una o due settimane vi dovrebbero dare l'accesso. A noi fortunatamente ce l'hanno data. Poi ho sentito anche di una nuova funzionalità green di Google, Eco Roots. Bravo, si è aggiornato. Eco Roots è in arrivo in tutta Europa nel 2022. Finora era disponibile solo negli Stati Uniti. Servirà per permettere agli utenti, a noi, di scegliere tra i vari percorsi disponibili il tragitto più sostenibile. Accanto alle informazioni di viabilità e di tempi di percorrenza, sarà possibile confrontare le percentuali di carburante risparmiato nel caso si scelga un percorso oppure un altro. Secondo me è una funzionalità nuova, molto figa e utile. Ho letto che Google stima che questa funzionalità potrebbe far risparmiare fino a un milione di tonnellate di emissione ogni anno. Non si tratta di quantità enormi, ma meglio di niente. Comunque sono l'equivalente di circa 200.000 auto in meno in strada. Ma facciamo così. Se siete interessati a Eco Roots, facciamo un video dedicato. Arriviamo a 30.000 like e lo facciamo promesso. Anzi, chiamiamo Google Italia e lo facciamo con loro. Vai, puntiamo in alto. Ragazzi, grazie mille. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video, sempre qui su Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. Ciao! Grazie mille.